Cari soci, eccoci al secondo appuntamento per illustrarvi le modalità di partecipazione all'annuale Assemblea dei Soci della Cassa Rurale di Treviglio, che si terrà il 24 di giugno. Come già sapete, a causa dell'emergenza Covid-19, quest'anno non sarà possibile partecipare di persona. Potrete esprimere la vostra volontà di partecipazione e i vostri voti attraverso la compilazione di una scheda che sarà poi consegnata ad un rappresentante designato che vi rappresenterà durante i lavori assembleari. Abbiamo istituito, per facilitare la vostra partecipazione all'Assemblea, nella pagina internet della banca, un'apposita sezione dedicata all'Assemblea. Dovete accreditarvi in questa sezione e lì troverete tutte le informazioni utili, i documenti relativi all'Assemblea e i moduli per esprimere la vostra votazione. Scaricateli, compilateli, inseriteli in busta chiusa e spediteli alla banca oppure recatevi presso le filiali di competenza e consegnateli. Ovviamente le filiali sono a vostra disposizione con dei kit appositamente preparati che faciliteranno le vostre operazioni di voto. Per ogni ulteriore informazione vi invito a recarvi presso le filiali oppure a chiamare i numeri che abbiamo istituito allo scopo. Mi auguro che partecipiate numerosi a questa Assemblea 2020 con questa modalità innovativa. Spero di potervi incontrare presto e vi saluto caramente.